ciao ragazzi bentornati ai nostri appuntamenti col venerdì della maglia oggi iniziamo a vedere come realizzare dei calzini come quelli che vedete con tallone a clessidra quindi inizieremo dalla punta saranno dei calzini to up cioè inizieremo dalla punta e andremo su per finire nel gambale di cosa avete bisogno per realizzare un paio di calzini che vedremo li faremo insieme contemporaneamente sul ferro vi serviranno 100 grammi di filato da lavorare con i ferri del 3 3 e mezzo e io ho scelto questa questo filato è un alpaca soft appositamente pensata vedete per realizzare i calzini che si chiama regia premium sono 100 grammi un gomitolo intero quindi userò i due capi del filato per poter realizzare il i nostri calzini il paio di calzini che andremo a fare come faremo inizieremo con l'avvio che avete visto anche quando abbiamo realizzato le nostre palline o l'albero di natale quindi con long tail cast on e prendo il mio filato ovviamente cominciate a prendere i due capi del filo che sono questi due qua vedete uno e due prendete i vostri ferri e iniziamo a montare le nostre maglie in che modo ferri abbiamo detto del 3 3 e mezzo io uso un 3 e mezzo vedete è un cavo di almeno 80 centimetri perché dobbiamo lavorare con il magic loop detto ciò prendiamo il primo nostro capo del filo lasciamo un po di fila di filato una codina e facciamo il nostro cappio mobile questo cappio lo andiamo ad inserire nel nostro ferro e cominciamo la lavorazione avviando le maglie ne avvieremo 6 su un ferro e 6 sull'altro quindi partiamo e andiamo a vedete inserire il filato sul nostro ferro in questo modo già una maglia su un ferro sull'altra giro e metto il filo fra i due ferri torno a girare e ci metto sull'altro 2 torno a fare la stessa operazione 3 ancora 4 ancora 5 e ancora una volta 6 quindi ho montato vedete le prime 6 maglie su un ferro e sull'alto del mio primo calzino spingiamo il il filo il nostro filo un po più in basso sui nostri ferri prendiamo l'altro capo del nostro gomitolo e andiamo a fare la stessa cosa quindi cappio mobile in questo modo mettiamo il nostro cappio sul filo tiriamo e andiamo ad avviare anche qui le nostre maglie allo stesso modo quindi 1 2 3 4 5 e le ultime 6 e andiamo a contare in modo tale da essere sicuri 2 4 6 2 4 6 e qui abbiamo la stessa cosa il filato è un'alpaca al 65 per cento il restante un po di poliammide che servirà a dare un po di sostegno al nostro calzino in modo tale che duri nel tempo e non si rovini fatto ciò cosa dobbiamo fare andiamo a prendere il nostro filo che viene dal gomitolo in tutte e due le nostre parti sfiliamo il nostro ferro e cominciamo a lavorare le maglie con la tecnica del magic loop quindi semplicemente a dritto non abbiate paura se la prima è un po larga prendete a stringere le codine si sistemeranno quindi 1 2 3 4 5 e 6 vedete lasciate questo filo che della prima calza e andate a prendere l'altro il secondo filo dell'altra calza e andate a fare la stessa cosa quindi mi raccomando i primi giri fateli in maniera corretta in modo tale da non confondere i fili altrimenti dopo non avete una lavorazione corretta quindi prendete e portate fuori la prima maglia tirate la codina e continuate la lavorazione 2 3 4 5 e 6 perfetto giriamo il nostro lavoro portiamo il nostro ferro nelle maglie dall'altro lato in questo modo per tutte e due le calze ci riposizioniamo quindi abbiamo le due calze separate vedete prendete il vostro filo e risfilate l'altro ferro è andata a fare la stessa operazione sull'altro lato quindi le lavorate a dritto in questo modo 1 2 3 4 5 e 6 portate le altre maglie lasciate la prima calza prendete un altro filo perché le calze lavoriamo tutte e due insieme in modo tale da andare su pari sempre insieme a fare gli stessi giri 1 2 3 se vedete voi qui io sto lavorando a dritto ritorto perché le maglie si presentano a dritto ritorto quindi è più semplice il risultato è il medesimo ok bene e avete lavorato le prime sei maglie di ogni ferro il lavoro vedete si presenta così questa sarà la nostra punta ancora girate il lavoro vi portate il ferro sulle due calze le maglie delle due calze in questo modo ok e ripartiamo però cominciamo a fare gli aumenti perché noi dobbiamo far crescere la punta per avere l'aumento in modo tale che si slarghi sul nostro piede cosa faremo faremo degli aumenti all'inizio alla fine del ferro all'inizio alla fine del ferro cioè gli aumenti verranno qui 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 e qui e vi faccio vedere come dovete fare facciamo degli aumenti lavorando la maglia davanti e dietro quindi voi cominciate normalmente il vostro lavoro facendo una maglia a dritto in questo modo non la fate cadere ci rientrate da dietro in questo modo e tornate a fare un altro dritto quindi avete vedete due maglie questo sembrerà un rovescio ma in realtà è un dritto perché c'è una piccola barretta però avete fatto l'aumento continuiamo la nostra lavorazione fino alla fine del ferro sempre a dritto ok e adesso dobbiamo andare a fare un altro aumento però se io lo vado a fare sull'ultima maglia mi viene esterno io lo voglio interno il mio mio aumento come avevo fatto qui internamente vedete quindi lo vado a fare sulla penultima maglia stessa cosa entro centro di nuovo da dietro e torno a fare un'altra maglia l'ultima la lavoro a dritto in questo modo le mie maglie da 6 vedete sono passate a 8 stessa cosa vado a fare sull'altra mia calza quindi prendo il mio filato sposto un'altra calza e inizio uno centro da dietro e faccio il mio aumento e continuo la mia lavorazione in questo modo qua voglio un aumento quindi uno aumento e l'ultima la lavoro a dritto e l'ultima la lavoro a dritto giro il mio lavoro e torno a fare la stessa cosa sull'altro lato quindi sposto una calza c'ho quest'altra sfino il mio ferro la prima la lavoro facendo facendo un aumento quindi senza facendola cadere ci torno dietro e faccio un altro dritto faccio cadere e continuo a dritto la mia lavorazione qui voglio un aumento quindi stessa cosa faccio il mio aumento dritto davanti dietro e l'ultima la lavoro normalmente sposto un'altra calza prendo il filo che viene dal gomitolo per l'altra calza e torno a fare la stessa cosa quindi la prima e lascio cadere vedete due tre quattro qua faccio l'aumento nella penultima e l'ultima ok quindi adesso le mie maglie sul ferro vedete sono diventate 8 da una parte e 8 dall'altra perché ho fatto gli aumenti torniamo a girare il lavoro ci riposizioniamo e i giri di aumenti vanno alternati ad un giro invece senza aumenti quindi io mi porto la mia calza sul ferro riprendo il mio filato vedete sfido il ferro e vado a lavorare un giro senza aumenti quindi uno stringo bene due tre quattro cinque sei sette e otto porto l'altra calza qui prendo il mio filo uno due tre quattro cinque sei sette e otto giro rimetto rimetto le maglie sui ferri sfido quindi la tecnica del magic loop che voi già conoscete e ricomincio devo fare un altro giro senza aumenti da un'altra parte della mia calza no quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto prendo l'altra calza prendo il mio filo e riparto uno due tre quattro cinque sei sette e otto e ho fatto i miei due giri senza aumenti adesso dopo aver fatto un giro senza aumenti devo tornare a fare un giro di aumenti quindi mi riposiziono vi faccio vedere quest'altro giro poi vi spiego come continuare la lavorazione sfido porto le maglie e torno a fare degli aumenti quindi la prima la lavoro non la lascio cadere ci torno da dietro e torno a fare un dritto e lascio cadere continuo la lavorazione normalmente fino ad arrivare alla penultima voglio un aumento in mezzo a queste due quindi la lavoro non la lascio cadere centro da dietro la torno a lavorare lavoro l'ultima stessa cosa andrò a fare in quest'altra calza prendo il mio filo attenzione sempre ai fili è fatte perché è facile all'inizio sbagliarsi quindi parto non la lascio cadere ci entro da dietro e torno a lavorare un dritto continuo fino alla penultima maglia di nuovo entro faccio un aumento e l'ultima la lavoro stessa cosa bisogna andare a fare dall'altro lato vedete che la mia il mio progetto sta crescendo si formerà una sacca che dopo vi farò vedere che servirà per inserire il nostro piede la parte delle delle lita quindi sfido torno a fare gli aumenti anche dall'altro lato quindi la prima da lavoro ma non la lascio cadere ci torno da dietro ok ancora continuo dritto stringete bene le maglie perché così vi viene un calzino bello fitto e comodo quando devo fare l'aumento alla penultima e poi l'ultima la lavoro stessa cosa faccio sull'altra calza la prima la lavoro e ci faccio un aumento senza farla cadere entrandoci da dietro continuo quando devo fare l'aumento e qui lavoro e ho fatto il mio giro di aumenti se io vi faccio vedere vedete che la mia calza comincia a fare una specie di punta vedete se la chiudo e la nostra punta che crescerà sui lati sostanzialmente cosa avrete avrete il lavoro che cresce in questo modo vedete facendo gli aumenti un giro si un giro no cresce in questo modo e fin quando dobbiamo continuare fino a che non magari se riusciamo la proviamo non prende bene tutte le dita del piede oppure un piccolo trucchetto e misurarla con la mano quindi quando diciamo gli aumenti comprendono le quattro dita della mano queste quattro e il calzino è pronto se io lo infilo vedete che da una parte all'altra mi calza bene e questo qua è praticamente la misura del mio piede vedete ci sono gli aumenti da una parte e dall'altra finché non mi calza bene io adesso continuo un po il lavoro con gli aumenti e dopo vi faccio vedere come proseguire sulla parte diciamo del piede del collo del piede fino ad arrivare al tallone anche in questo caso il video lo divideremo in più parti proprio perché faremo la parte del piede poi faremo un video sul tallone e poi dopo sul gambale quindi lavoro per un po e ci vediamo fra poco per farvi vedere come viene qual è il risultato e come continuare la lavorazione allora vedete io ho lavorato un po le punte facendo gli aumenti un giro se un giro no all'inizio alla fine del giro come vi ho spiegato prima e sono arrivato ad ottenere questi triangolini che praticamente rappresentano la mia punta e se li metto nella mia mano vedete che calza abbastanza bene adesso io farò comunque un altro giro per farlo vestire comodo lo faccio insieme a voi e poi vi spiego come continuare la lavorazione quindi vedete avete le due calze che crescono insieme allo stesso momento io adesso andrò a fare l'altro giro farò un giro di aumenti e un giro semplice quindi vi ricordate come vi ho fatto vedere prima la nella prima maglia fate l'aumento dopodiché continuate sempre a dritto in questo modo per tutta la lunghezza del vostro nella vostra diciamo parte del calzino nel caso in cui voleste in qualche modo abbellire la calza con dei motivi ad esempio non so dei traforati delle treccioline potete impostarle dalla punta e lavorarle contemporaneamente mentre fate gli aumenti aumenti e create i calzini quindi qua voglio un aumento nella penultima vado a farlo lavoro l'ultima lascio diciamo quella calza in sospeso prendo l'altra e vado a fare la stessa cosa devo fare gli aumenti risposto questa faccio uno e lavoro anche da dietro e continuo quindi dovete fare questa operazione di aumenti un giro sì e un giro no fino a avere la larghezza desiderata cioè o la misurate nel piede oppure la oppure la misurate nella mano ok quindi fate in questo modo vedete qua voglio un aumento e lo faccio dopodiché l'ultima giro il mio lavoro e posizioni i miei fili tiro la il mio cavo questo è all'interno del calzino lo sistemo bene riporto il mio ferro vedete sul delle maglie e faccio l'altro giro di aumenti anche qui quindi la prima la faccio doppia lascio cadere dopodiché continuo la mia lavorazione così maniera proprio classica si fa anche presto a lavorarli perché crescono insieme quindi nell'arco di 23 giorni se ci lavorate in maniera assidua riuscite a creare un paio di calzini o di calzettone perché poi dopo la lunghezza del gambale la decidete voi e quindi la la portate finché avete la lunghezza che voi desiderate aumento l'ultima nell'altra calza faccio la stessa cosa e la lavorazione prosegue in questo modo ecco qua è abbastanza veloce come vi dicevo finisco questo giro facciamo un giro normale senza aumenti e dopo continuiamo la lavorazione quindi torno a girare il mio lavoro porto il ferro sulle maglie questo lo sfilo perché quello che mi servirà per lavorare riposiziono le mie maglie e adesso faccio un giro normale in questo modo faccio l'aumento vedete lo lavoro normalmente ve lo volevo far vedere anche perché così vi rendete conto dopo un po di come diventano come cresce il nostro progetto questi come vi dicevo sono calzini to up cioè iniziando dalla punta e finendo sul gambale esiste anche una tecnica che vi permette di lavorare invece dal gambale fino alla punta io intanto vi faccio questo calzino che ha la punta iniziata vedete con come abbiamo visto prima con il long tail cast on esistono anche punte tonde insomma ci si può sbizzarrire in particolare questo qua avrà un tallone smorzato che si chiama clessidra che sarà fatto con i ferri accorciati quindi riusciamo a vedere anche di nuovo quella tecnica che quella che io uso di solito quando vado a fare con gli anatomici nei maglioni in questo caso invece l'attueremo allo stesso modo ma per andare a creare il nostro tallone che si chiama clessidra cioè prima andremo a diminuire le maglie per creare la punta del tallone poi le andremo torneremo ad aumentarle per andare a ripristinare il numero di maglie che avevamo all'inizio ok questo è l'ultimo giro per le mie due calze a dritto senza aumenti dopodiché vedrete che si continua senza più fare degli aumenti quindi voi praticamente lavorate la vostra calza senza più fare degli aumenti fino a quando fino ad arrivare diciamo al tallone dove inizia il tallone e parte diciamo la caviglia quindi praticamente dopo vi farò vedere proprio sulla calza lì vi faccio vedere fin dove dovete proseguire la lavorazione quindi sostanzialmente la prima parte è fatta così montate un numero di maglie che possono essere 6 7 8 dipende un po dalla larghezza del piede ve ne accorgete voi stesse di solito 6 7 sono sufficiente perché poi il calzino un po si slarga e quindi vi permette di avere una vestibilità comoda riuscite a lavorare con gli aumenti un giro sì un giro no per con il magic loop e arrivate fino a quando non veste comodo sul piede o l'ho provato oppure nella mano come vi ho fatto vedere sostanzialmente adesso noi siamo qui abbiamo fatto vedete gli aumenti quindi siamo qua parte diciamo tutta la parte del collo del piede ok quindi continuate a lavorare senza aumenti fino a raggiungere il vostro tallone e la parte alta diciamo della caviglia quindi fin qua dopodiché vedremo nella seconda parte come andare a lavorare il tallone dopodiché la parte alta del nostro calzino quindi il gambale quello che avvolge il nostro polpaccio e continua fino alla lunghezza desiderata poi finirà con un punto coste 1 a 1 che conferirà una certa elasticità quindi una volta finiti gli aumenti voi continuate la lavorazione senza più farne quindi tutto a dritto ok e li lavorate sempre in questo modo senza più fare aumenti una volta raggiunta la lunghezza del piede o la misurate col centimetro oppure se sono per voi ve li provate quindi capito voi stessi dove dovete fermarvi e cominciare il tallone e quindi dicevo lavorate così fino a raggiungere quella quella lunghezza la cosa bella di questo tipo di lavorazione con i circolari che vedete i calzini al contrario dei quattro ferri che normalmente vengono utilizzati il gioco di quattro cinque ferri viene utilizzato per lavorare i calzini in questo modo crescono ambedue contemporaneamente quindi voi stessi vi accorgete e sapete dove quando è il momento di diminuire quando è il momento di aumentare quando invece bisogna lavorare in maniera lineare senza aumenti ok e non vi dimenticate se avevate fatto l'home per quanti giri l'avevate fatto o meno quindi voi continuate la lavorazione adesso sempre a dritto quindi vi crescerà il calzino soltanto in questa porzione non si slargherà più ma crescerà così e vi do appuntamento alla seconda parte quando andremo a lavorare il tallone vi farò vedere come fare il tallone a clessida se il video ti è piaciuto lascia un like condivideteli iscrivetevi al canale attivate la campanella in modo tale che siate sempre aggiornati sui vostri sui miei video scusate e vi do appuntamento alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti